Allora, come sta andando la pratica? Bene? Eravamo rimasti a canto armonico a una cavità, quindi lentamente dalla U alla I, molto lentamente. U 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 armonici dal quarto al dodicesimo. Però dobbiamo andare molto molto lentamente, piano piano che impareremo a livello articolatorio a spostarci di poco di poco da un armonico all'altro, li renderemo tutti udibili. Inizialmente però per aiutarci a tirar fuori il suono dell'armonico è importante sempre avere un suono di base che andiamo poi a scomporre, nasale. Immaginarsi che l'armonico nasca in questa zona. Inizialmente può essere buono anche utilizzare i muscoli facciali, dopo con la pratica si capisce che tanto non servono, quindi possiamo tenerli rilassati, ma quando non sappiamo lavorare di fino internamente può essere molto buono utilizzare i muscoli del viso. Così come quando uno non sa cantare possiamo vedere dalle sue espressioni dei muscoli che utilizza a livello facciale che sta lavorando di gola, sta cantando involontariamente di gola, così se io uso i muscoli facciali e nasalizzo la voce naturalmente va in verso quella direzione. Ok, una cavità. Ora ci spostiamo verso due cavità, quindi l'altro modo per praticare canto armonico è uno di quelli più usati anche perché rispetto a quello a una cavità, una tecnica a due cavità, per come ci conformiamo, per come utilizziamo i muscoli, andiamo con questa tecnica a rendere un po' più muto il pedale, la nota lunga che teniamo sotto e quindi a far risaltare maggiormente l'armonico. Allora, innanzitutto dobbiamo riuscire a capire come funzionano. Due cavità si chiama così perché utilizzando la lingua, tenendo la lingua nella posizione della L, con la punta che tocca il palato, noi dividiamo la nostra bocca in due cavità. Teniamo la punta della lingua. All'inizio può essere un buon esercizio, fare un pochino di volte la, 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 sentendo la punta della lingua dove tocca il palato. Il punto è sempre quello, se noi non pensiamo di, non cerchiamo di imitare quello che solitamente facciamo, ma facciamo una L e osserviamo dove la lingua tocca il palato, la, 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 il punto è sempre quello, la, la, quindi lingua che tocca il palato, punta e pancia rilassata, la, 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 pancia della lingua rilassata, la, la, la. Ora, buon esercizio per attaccare il suono e far venire fuori l'armonico può essere quello di passare dalla N alla L. Questo esercizio lo suggerisce anche Stratos nel suo video suonare la voce di WD bellissimo in cui lo intervistano così durante una durata di un'ora e quando parla del canto armonico suggerisce proprio questo modo, dice se andiamo a provare a tenere, teniamo lungo una N e passiamo a una L ecco che sentiamo l'armonico e questo possiamo provarlo tranquillamente anche noi. N, L, Occhio che non deve essere No, noi teniamo lungo il suono e facciamo la L, buona, non si deve capire, se quando noi facciamo, pratichiamo correttamente il canto armonico, abbiamo detto prima parlavamo anche, mi sembra, o comunque se facciamo le cinque vocali, alle cinque vocali corrispondono cinque armonici, ma se lo facciamo correttamente non si dovrebbe capire o almeno poco che vocale stiamo usando. Lo stesso con le consonanti N, L Una volta che abbiamo agganciato l'armonico Scendiamo la U, saliamo la I, scendiamo la U, saliamo la I In pratica, questo è forse un passaggio che richiede un pelo più di tempo, ma se siete riusciti a praticare un pochino, avete visto che alla fine sono giochi molto semplici che possiamo praticare ovunque, ottima è la macchina, ottima mentre facciamo le pulizie di casa, ottima mentre siamo da soli, stiamo facendo la doccia, anzi il bagno come acustica solitamente un luogo ideale. Praticate il più possibile seminiamo ogni giorno per poi poter raccogliere velocemente 5-10 minuti di concentrazione ogni giorno e già dopo un mese possiamo raccogliere buoni risultati. Impratichitevi e la prossima volta vedremo esattamente anche col canto armonico a due cavità quali sono gli armonici che possiamo intonare dal quarto al dodicesimo e vi darò altre due dritte per tirar fuori meglio l'armonico. Grazie!